L'orevole Claudio Martelli a Cassano qui al Teatro Comunale per presentare il suo libro Ricordati di vivere. Cosa contiene? Contiene 30 anni di storia di questo nostro bel paese con tante sfaccettature e con tante situazioni riportate dalla cronaca ma vissute in prima persona da lei. Sì, è una testimonianza di una lunga esperienza umana, politica, culturale per tanti aspetti in presa diretta, quindi non riferito da altri ma da chi le cose che narra le ha vissute in prima persona, felice di la grande fortuna di aver potuto rappresentare un mondo vivo, vitale, luminoso come il mondo socialista, un mondo di grande creatività politica, un mondo del lavoro, un mondo del bisogno, un mondo di tanti uomini e donne di merito che non ho dimenticato e che pensano che non debba essere dimenticato dagli italiani. Secondo lei il Partito Socialista può avere un futuro? Il socialismo ha un presente innanzitutto in tanta parte del mondo anche se non è il presente rigoglioso di qualche generazione fa e bisognerebbe che i socialisti si interrogassero sul perché di questo declino e sull'emerge di forze turbolente, in parte nuove e accattivanti, in parte che suscitano più di un giustificato timore e preoccupazione. Il mondo è cambiato, è radicalmente cambiato ed è cambiato molto anche il mondo del lavoro e il lavoro stesso è enormemente cambiato e tutti questi cambiamenti mi pare che non abbiano sinora suscitato un pensiero all'altezza di interpretarli e di potersi poi misurare nel lagone politico. Demo si parlava di craxismo, oggi si parla di renzismo? Beh, questo appartiene alla storia, gli ismi cambiano di continuo, bisogna vedere quale ismo lascia più tracce. L'ultima cosa, cosa pensa di Papa Francesco? Beh, ci sono cose che mi piacciono molto, la simpatia, il calore umano che manifesta, intanto intanto c'è qualche affermazione che sorprende e che magari suscita qualche allarme, quando l'ho sentito dire dopo l'assassinio dei giornalisti Charlie Hebdo che anche lui, a chi gli insulta la mamma avrebbe dato un pugno, mi è perso francamente fuori tonno, ma credo che sia l'esuberanza argentina che qualche volta lo porta a esagerare. La nostalgia della politica attiva? No, non moltissima, poi comunque la forma dell'associazione, dell'incontro con tante persone diverse, con tante generazioni anche diverse oramai, mi appaga. Grazie. Grazie.